Adesso invece vi mostrerò con gli asparagi selvatici come fare il risotto. Sono anche buoni, semplici, con olio e limone. Mi servirà mezza cipolla media, riso, dato vegetale, io ho quelli fatti in casa, gli asparagi ovviamente, un po' di parmigiano alla fine, ho tritato la cipolla, mi è da piangere, lo mettiamo in padella, facciamo soffriggere e nel frattempo mi faccio il brodo vegetale. Ho messo da parte l'acqua dove ho pollito gli asparagi, aggiungo un dado e faccio pollire. Mangiamo un cuore di dado. Tra un minuto aggiungo il riso. Facciamo tostare per qualche minuto il riso. Andrò ad aggiungere anche un po' di curfuma. Ho fatto tostare il riso, adesso piano piano andiamo ad aggiungere il brodo. un po' di curfuma. Ok, facciamo cuocere piano piano. Il riso è cotto, andiamo ad aggiungere una noce di burro, un po' di pepe, un piacere per per chi piace. Il parmigiano. Adesso non ci resta che assaggiarlo. Ciao a tutti e alla prossima! Ciao a tutti!